un'altra vittoria trequartista però hai dimostrato anche oggi insomma di saper finalizzare come facevi in passato sì sì era importante vincere oggi sapevamo che era difficile primo tempo abbiamo faticato dopo dopo aver fatto gol ci abbiamo messo anche del nostro quando l'abbiamo preso però siamo ritornati in campo nel secondo tempo con con la voglia di chiudere la partita abbiamo trovato il gol e siamo stati bravi a mantenere il risultato mi racconti questa novità di quest'anno ionisi ti ha cucito addosso questo nuovo abito da trequartista come ti stai trovando e qual è la cosa che ti piace di più fare in questo ruolo no mi sto trovando molto bene sto cercando di fare quello che fa un trequartista ovvero farsi trovare sempre tra le linee per mettere in difficoltà gli avversari ci sto mettendo tutto il mio meglio e poi quando riesco cerco di andare sempre in aree per creare qualche pericolo oggi meno male è successo quindi sono contento di questo Alessio Dionisi è un allenatore particolare quasi un istruttore spesso si sente anche dare consigli sulla postura da tenere che cosa ti ha dato di più in queste poche settimane di preparazione cosa ha dato di più all'Empoli no ci ha dato grande grande come si può dire grande voglia di dimostrare che siamo forti proviamo tante cose in allenamento e le facciamo bene e questo si vede in partita e a me niente mi dice sempre di farmi trovare nelle linee con la postura giusta per perché vede che posso mettere in difficoltà gli avversari e io ci sto ci sto provando tu eri in questo gruppo anche l'anno scorso che finì la stagione con una grossa delusione a Verona come vi approcciate a questo campionato sentite che è cambiata l'aria ci siete per la promozione diretta adesso pensiamo solo a cancellare quello che abbiamo fatto l'anno scorso perché non è stato proprio così bello ma adesso siamo partiti forte siamo consapevoli delle nostre potenzialità dobbiamo migliorarci e poi più avanti si vede come andrà quattro volte contro il pescare hai giocato hai fatto quattro gol che ti hanno fatto mi porta fortuna questa squadra quindi speriamo di farne tanti altri a chi dedichiamo il gol di oggi al gol va alla mia famiglia mia ragazza e i miei compagni perché sono loro che mi mettono a disposizione per per fare gol quindi andiamo avanti così